E parliamo di Camminare nel Delta, domenica 13 ottobre a Rusolina Mare. Un saluto da parte di Andrea Bolognese e dal gruppo Facebook e blog di Adria Polesine Eventi Veneto Delta del Po. Siamo qua sempre pronti se volete condividere le vostre locandine, eventi, manifestazioni oppure anche per curiosare tranquillamente. E poi c'è anche la nostra omonima pagina Facebook, il blog di Adria del Polesine. Come detto, come annunciato, parliamo di una manifestazione, di una camminata che si terrà domenica 13 ottobre 2019. Camminare nel Delta, al di là del fiume e tra gli alberi, si terrà a Rusolina Mare. Ok, vi lascio comunque sul post del video il link per andarvi a leggere l'evento e cosa si farà. Questa sarà la prima tappa del circuito di trekking in tutto il territorio del Delta del Po. Una camminata salutare immersi nella natura, accompagnati da una guida naturalistica. Si farà un percorso di 7 chilometri che attraverserà ambienti differenti, dal bosco al fiume, alla spiaggia. Inoltre ci sarà una voce narrante che racconterà un po' e offrirà oltre a tutto il panorama anche sensazioni autunnali. Benissimo, vi lascio quindi il link, poi si terminerà con una vista del panorama dalla torre che c'è a Rusolina Mare, quella in acciaio. Se non l'avete vista, andateci perché è proprio emozioni allo stato, oppure allo stato natura. Vi lascio il link sul post del video per andarvi a leggere l'evento e magari anche con le coordinate per chiedere informazioni eccetera eccetera. Comunque ricordiamo, domenica 13 ottobre 2019, dalla fuce dell'Adige, una camminata a camminare nel Delta. Ok, a Rusolina Mare. Grazie a tutti per l'ascolto, un saluto da parte di Andrea Bolognese, vi ricordo come sempre il nostro gruppo Facebook e blog di Adria Polesi in eventi Veneto Delta del Po per condividere i vostri eventi, i vostri articoli, anche se volete eppure anche magari solo dare uno sguardo. E inoltre c'è sempre la nostra monima pagina Facebook. Grazie a tutti, un saluto da Andrea, ciao ciao, alla prossima.